Il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche è un corso di laurea a numero chiuso e infatti vi è presente una prova d'accesso e questa prova è composta da diverse parti, una parte di clinica infermieristica e clinica ostetrica, una parte di legislazione della professione infermieristica e della professione ostetrica, una parte di cultura generale, una parte di ragionamento logico, una parte di statistica, una parte di scienze umane, scienze sociali come la psicologia o la sociologia.